Un breve video sempre con l'orologio, ma questo davanti a voi, ma non è l'orologio di Q. A parte la battuta, oggi voglio essere chiaro, lo dico sin dall'inizio, lo dico chiaro e tondo. Questo video prende spunto da un video odierno del famosissimo youtuber Il Greg, che come sapete è un grande, fa vagonate di visualizzazioni e non ha certo bisogno della mia pubblicità o della mia promozione. Se non fossi stato bloccato, infatti non avrei fatto questo video, ma semplicemente mi sarei limitato a far girare e a metterne i gruppi insistentemente quello del Greg. Non potendolo fare, perché sono bloccato su Face, allora faccio un mio piccolo video e do il mio modestissimo contributo all'informazione vera. Ebbene, risulta chiaramente che la sceneggiata dell'omicidio di George Floyd di un paio di mesi fa era appunto una sceneggiata. Perché? Perché la rete lo dimostra chiaramente. In rete c'è tutto, come sapete, basta avere voglia e sapere un po' cercare e in questo caso da giorni ormai, anche se in Italia e in Europa non lo dice nessuno, i media tradizionali si guardano bene dal dirlo, sono disponibili appunto sulla rete i filmati dell'arresto, delle fasi dell'arresto di George Floyd. Sono immagini registrate dalle telecamere che i poliziotti, le forze dell'ordine americane sono obbligati ad avere. E quindi sono immagini a loro modo inequivocabili, inequivocabili, che dimostrano appunto quello che ho detto, che questo omicidio è stato una pagliacciata, una sceneggiata, nel senso che George Floyd viene fermato a bordo della sua Mercedes, come dice Greg, scende, viene fatto scendere senza nessuna forma di violenza, benché minima, dagli agenti, tutto filmato, ripeto, tutto filmato, gli agenti poi lo invitano più volte a salire sulla loro vettura per portarlo in caserma e per accertamenti, lui si rifiuta di farlo più volte e allora gli agenti semplicemente lo spingono dentro questa vettura. se non che lui riesce a uscire dalla porta che era dall'altra parte della vettura stessa e allora viene immobilizzato. Ma non c'è nessuna violenza, era semplicemente immobilizzato ed è morto. Perché è morto? Allora direte voi, perché è morto? Se è morto, se è morto, perché ci sono dei dubbi anche su questo, potrebbe essere proprio una scena teatrale, non è detto neppure che gli agenti siano veri agenti delle forze dell'ordine, potrebbe essere tutto un grosso teatro, ma anche se fosse morto, si dimostra che non c'è stata nessuna forma di violenza da parte degli agenti e quindi sarebbe morto per cause assolutamente naturali, visto che era un tossico che faceva uso di sostanze stupefacenti e anche sin dai primi momenti dell'arresto, quando si viene invitato appunto a fare qualche metro per salire sulla vettura della polizia, si vede chiaramente che non era in condizioni normali. Quindi o droga o alcol o tutte e due le cose e questo spiegherebbe la sua morte, le cause vere della sua morte, come del resto dice l'autopsia, che è morto per malore, malore, malore. E in ogni caso, ripeto, basta andare in rete, digitare George Floyd Camera Policeman e trovate tutti i filmati che volete che sono incontrovertibili. Quindi ho pensato bene di fare questo video, di aggiungere le mie pochissime visualizzazioni alle tante 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 che farà il Greg, riportando un po' il senso del suo video, il contenuto del suo video, proprio perché è importante che nonostante i media tradizionali cerchino di nascondere la verità, la verità venga a galla il più possibile. Grazie e alla prossima!